Dove siamo nonno? Stiamo fuori della spea. E che cavolo è la spea? La spea è una polveriera che a tempo di guerra funzionava. Ci stanno macchinati sotto terra. Una polveriera a tempo di guerra. Ci facciano l'armi a tempo di guerra. Tu ci sei entrato mai lì dentro? Sì. Ma non ci credo. Ci sono entrato perché facciano entrare. Io ci sono entrato a un camion a pilla il fieno. A pilla il fieno? Sì. C'era un gusto di entrare contro l'argo. Non escapai.